Buonasera, siamo qua con Prodotti Tipici e oggi ci troviamo presso l'azienda, i tre filari di Recanati, chiaramente. Prima di parlare dell'azienda, il nome da che cosa lo chiedo al signor Stefano? Prendo il nome da tre vecchie alberate tipiche, una volta dell'agricoltura marchigiana, e ormai sono state eliminate per la coltivazione mercatizzata dei nostri terreni, e quindi sono rimaste queste tre alberate che erano tipiche della nostra zona e le abbiamo conservate, restaurate e abbiamo dato il nome all'azienda prendendo lo spunto da questa presenza. Quindi la tradizione è molto forte nello spirito che anima forse la vostra azienda, la vostra anima? Noi siamo partiti non certo per fare un investimento produttivo agricolo come molti vorrebbero fare, cioè trasportare l'agricoltura in industria, ma noi siamo rivolti a una produzione di qualità, quindi di una certa limitatezza, ma con criteri che diano veramente qualità ai nostri prodotti e la qualità poi vuol dire salute. Giustamente, quello che lei dice è importantissimo, la salute, la qualità, il prodotto al centro. Voi di che cosa vi occupate? Da quello che ho visto, da quello che lei mi ha fatto vedere, l'azienda è un mondo, un microcosmo di attività e di prodotti legati appunto alla qualità e alla selezione, alla scelta. Noi siamo in un'agricoltura biologica, è partita questa azienda con la coltivazione dell'olivo e poi dall'olivo chiaramente con il nostro frantoio aziendale la produzione di un olio, un olio extravergine, ma qualcosa di più dell'ostravergine, un olio soprattutto di qualità, quindi una categoria superiore nel senso che l'estravergine è la migliore categoria commerciale, un olio di qualità, un qualcosa di più. Poi siamo spostati nell'impianto di vigneti e abbiamo costruito l'area della cantina e anche lì con conduzione biologica facciamo una serie di vini, quelli che ci consentono il nostro territorio con le nostre doc. Poi non ci è bastato, siamo passati anche alla coltivazione di prodotti come sempre a livello biologico, prodotti ortivi, frutta, confetture di frutta, legumi e poi non so dove ci fermeremo perché a un certo punto dovremmo anche fermarci e attendiamo chiaramente una risposta positiva da chi vuole capire. Immagino che insomma voi abbiate tutte le caratteristiche per rappresentare, rappresentate degnamente in modo eccellente la vostra regione ma anche il territorio di Recanati. Questo speriamo che qualcuno ce lo dica perché a dircelo da soli sarebbe un po' presuntuoso. Immagino che abbiate dei riscontri positivi. Diciamo che tanto questa nostra produzione vive a livello commerciale solo sul passaparola perché poi non è che puoi fare le grosse pubblicità di queste cose anche perché poi sposando il criterio della qualità la quantità non è che sia eccelsa. Per cui ecco però siamo sempre in attesa delle nuove clientele che capiscono le nostre intenzioni. Bene, noi ve lo auguriamo, noi naturalmente siamo qua per testimoniare l'importanza e la produzione della vostra azienda e spero che il nostro messaggio arrivi ma in genere la qualità del prodotto è ciò che permette che questo accada e è al centro della comunicazione del prodotto. Grazie a lei.